concludiamo la panoramica di video realizzati con la fotocamera di galaxy s23 ultra con la risoluzione 8k a 30 fotogrammi per secondo in questo caso lo zoom massimo arriva al 6x abbiamo lo zoom digitale in questo caso devo dire anche con lo zoom a 6x stabilizzazione buona anzi ottima anche la qualità dell'immagine risultato ancora decente registrazione video 8k a 30 fotogrammi per secondo galaxy s 23 ultra che si comporta devo dire molto molto bene poi chiaramente mi riservo sempre di andare a verificare su uno schermo più grande e con pure condizioni luce per i miei occhi